Il successo, esattamente come l'insuccesso, lascia traccia. Il successo è fatto da cose facili da fare, ma anche cose che sono facili da non fare. Quindi tu che avevi problemi sulle convinzioni mi stai dicendo che non hai fatto l'esercizio? Hai alzato la mano? No, tu hai alzato la mano che non l'hai fatto? Allora, quando sono andato, non so se avete visto la mia intervista a uno mattina. A un certo punto, era una roba di un'ora, uno contro tutti, alla volta precedente un tipo mi si avvicina e mi dice sai, faccio il venditore, lavoro in giro con la macchina, 16 ore al giorno, voglio stare con mio figlio. E io gli ho detto, guarda, ho una soluzione per te. Puoi fare una roba figa, puoi stare a Roma senza problemi, non hai più bisogno di girare e anzi puoi guadagnare molto di più di quella cifra che tu guadagni andando in giro perché la sprechi la maggior parte in benzina, hotel e ristoranti. E lui mi fa, grazie, ti prego, grazie, grazie, mi cambi la vita. E io gli ho dato un numero di telefono. La volta dopo, la conduttrice, Giorgia, dice Allora, hai chiamato questa persona per vedere qual era il lavoro, qual era l'attività che ti offrivano? E vi dice, non fa, no, no, ero troppo impegnato. E mi sembra esattamente quello che sia successo alla nostra amica. Cioè, lei ci dice, c'è problemi, voglio cambiare la mia vita, lo voglio fare per i miei figli, c'è un esercizio da fare, è un esercizio che deve cambiare il suo sistema di convinzioni e lei non lo fa. Poi torna a casa, dice, che bello Bardolla, fighissimo, bravo, bello, e poi però non cambia la sua vita. E tra un anno la ritroviamo nella stessa situazione finanziaria e via dicendo. Quindi per ottenere dei risultati che non avete mai ottenuto dovete fare delle cose che non avete mai fatto. E dovete pensare e diventare delle persone che non siete mai stati.